E così anche l'Italia è occupata dai tedeschi, diviene preda dei nazisti. Lo sconforto fu notevole, fu grande. Noi parliamo della Romagna, parlo della mia piccola città, di Modigliana. Quello che avendo a Modigliana avvenne anche nelle altre città. Il 25 luglio crolla il regime fascista. Tutto questo aveva generato in noi, nel 25 luglio 1943, una grande speranza. A Modigliana fondammo, ma quando dico Modigliana posso dire Faenza, posso dire qualunque altra città della Romagna. Noi primi giovani antifascisti fondammo un circolo, un'associazione che noi chiamavamo Movimento. Movimento giovanile modiglianese, che aveva come sigla MGM. Mi viene da sorridere perché mi sembra più idonea a una marca di motociclette che non ad un movimento politico. Ma però lo fondammo con tutte le nostre speranze, le nostre aspirazioni, l'entusiasmo che avevamo. E per poterci riunire, per poter discutere dei problemi politici, per poter parlare di democrazia, di repubblica, di libertà. E i giovani non sapevano che cosa fossero questi concetti. Noi andavamo a riunirci nel greto del torrente a Cerreta, di notte e tempo. Perché altrimenti i carabinieri ci avrebbero arrestato. Poi arrivò il fatidico 8 settembre, cioè l'armistizio fra il governo italiano, lo Stato italiano e gli alleati. Quindi quando arrivò questa notizia così importante, immediatamente sul tambo. Ci ritenemmo paghi delle delusioni che avevamo subito e credemmo che effettivamente fosse arrivato il momento per la libertà. Organizzammo un corteo, andavamo nel museo, prendemmo la vecchia bandiera di Garibaldini, detta anche la bandiera di Garibaldi. E al rientro da questo corteo eravamo talmente entusiasti e talmente convinti che avremmo combattuto finalmente per la libertà d'Italia e che noi aprimmo gli arruolamenti volontari. Prendemmo un tavolino al bar centrale e iniziamo a raccogliere le firme di coloro che si volevano presentare volontari per andare a combattere. Delusione fortissima perché veniva a sapere giorni dopo che il re era fuggito, non c'era autorità in Italia, nessuno poteva fare niente. I tedeschi arrivarono, al siglo di loro arrivarono poi i fascisti repubblichini e diciamo che la situazione tornò, non dico come prima, ma peggio di prima. A Tredorsi invece la situazione era diversa perché mancava un'organizzazione di qualsiasi tipo. Il paese che originariamente era socialista era ora di idee cattoliche che erano più che altro per l'attesismo che per la lotta armata. Questo non torse che a Tredorsi si verificasse un episodio rilevantissimo, cioè l'arresto di Antonio Fabri, un antifascista, un giovane che venne portato a Forlì e processato per il possesso di bombe a mano. Il Fabri rifiutò la grazia sputando in faccia il presidente tedesco che gli proponeva di comutarle la pena in lavoro forzato in Germania e fu fucilato all'alba del 25 settembre 1943. A Tredorsi venne fuori una gelida calma che però fu ben presto cambiata in qualcosa di importante perché compare un personaggio, un giovane faentino di nome Silvio Corbari. Il vero nome di mio padre è Silvio Corbari, tutti lo chiamavano Silvio però. È nato in borgo, in borgo di Rubeco Fens, il 10 gennaio del 1923. Una famiglia normale, una famiglia antifascista, una vita normale fino a quando si è rifugiato in montagna per combattere il fascismo. Io qui a Fens sono nato in borgo di Rubeco, sotto lo giasto di Ravalera, che si chiamava, per essere più precisi. Perciò io Corbari lo conoscevo anche allora perché anche lui frequentava il borgo ed era nato in borgo e frequentavamo tutti quanti i ragazzi di quella borgata, la parrocchia di San Tonino che lì c'era un circolo che si chiamava il brocone e lì c'era anche il campo di gioco dal polone e noi giocavamo al polone come tutti gli altri ragazzi. Corbari era certamente un tipo che si metteva sempre in evidenza più degli altri perché un gesto o un altro gesto era uno che scatava subito, non è che fosse uno timido e se prendeva un calcio lo ridava indietro quando si caccava il palone. Era un ragazzo fatto così, però era un buon ragazzo, un buon amico. Silvio Corbari mi disse che il militare non lo voleva fare, ci incontrammo sulle scalinate del comune per andare a ritirare il foglio del via, lui doveva partire il primo di settembre del 1942 e io partivo il 3 settembre del 1942 e di lì ci siamo lasciati e ci siamo rivisti dopo in montagna. Un giorno Silvio mi dice Lina vieni con me che andiamo in cantina e io dico beh in cantina a far che cosa? in cantina, di te non preoccuparti vieni con me, andiamo in cantina, quando usciamo in cantina lui ha un sacchetto un sacchetto pieno di sabbia ed inizia a picchiarsi su un ginocchio. Beh dico cosa stai facendo? No disfacendo così mi si gonfi il ginocchio così non ci vado più a fare il soldato non ci vado più, il soldato non me lo fanno fare più. Questo va avanti per qualche giorno poi dopo io vado in caserma, vado in caserma, vado a parlare con Maresialo dei Carabinieri, il Carabinieri di Maresialo viene a casa e dice consiglio, dice Silvio è inutile io lo so che non vuoi fare il soldato però io non ti posso lasciare a casa, ti posso solo lasciare a casa per qualche giorno in più però dopo devi ritornare. Federico Laghi, modiglianese di nascita, all'epoca dei fatti aveva 22 anni e militava nelle forze fasciste e quindi in lotta contro il movimento partigiano. Destino ha voluto che fosse presente a certi fatti. Oggi a distanza di 50 anni ne è testimone. Io e Silvio Corbari ci siamo conosciuti nel 1942 da militari nel Genio Pontieri a Legnago in provincia di Verona. Di lui ricordo un giovane molto socievole, generoso ma assolutamente indisciplinato. il tenente Caneparo lo chiamava la pecora nera del reparto, insomma si assentava arbitrariamente andava a Faenza a trovare la ragazza, tornava, lo sbattevano in prigione, insomma era un tipo così. Io e Silvio ci siamo conosciuti, io l'ho conosciuto passeggiando lungo il corso, ci siamo frequentati per un pochino, come amici, poi l'amicizia è diventata un'altra cosa, io sono rimasta in chat interessante e ci siamo dovuti sposare. Silvio era molto riservato, io dove andasse e che cosa facesse io non lo sapevo perché lui non mi diceva mai niente ed io non chiedevo niente, assolutamente niente. la sera andavamo a fare un giretto con Giancarlo perché Giancarlo era piccolino, poi dopo mi accompagnava a casa e lui andava e io non sapevo niente. Io ricordo un altro fatto che una sera ero in caserma e non avevo una lira in tasca, ero in bolletta, mi ha dato cinque lire. Quando ho avuto l'occasione di restituirgliele si è schermito, ha rifiutato e mi ha detto ti ricorderai poi di me, così insomma, io si poteva già intravedere in lui, in questo suo atteggiamento, il spirito del ribelle, insomma, il desiderio di una libertà, seppur ancora chiusi in luce, poi esplosi dopo il disastro politico-militare avvenuto in Italia nel settembre del 43. Con la firma dell'armistizio ed il conseguente sbando generale, Silvio Corbari è a Faenza, a modo di mettersi in luce durante il prelievo di armi dalle caserme abbandonate. A bordo di un'auto trasportava continuamente le armi a Derrano, alle case grandi, villa che i conti fermiani avevano messo a disposizione come centro di raccolta. È qui che si formano i primi raggruppamenti partigiani del Faentino, i quali si sposteranno nella zona della Samoggia, al riparo nei calanchi e fra la vegetazione.